e poi anche quando abbiamo la Tino, tu stai lì fermo, scusa, ma tu sei stupido, comunque quando faccio questo messo, tu stai zitto Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono John Redd e oggi parliamo di amici spunta un terzo video inedito di Valentin a pubblicarlo sempre da Gospia. Vediamo che cos'è successo. Non c'è due senza tre e oggi è arrivato l'ennesimo video per sputtanare i comportamenti rispettosi di Valentin all'interno della scuola di amici. Da Gospia ha pubblicato un filmato inedito dal titolo Valentin, bullo, omofobo e violento. Nella clip si vede il ballerino che si rifiuta di fare una coreografia perché secondo lui è troppo gay. Dopo Hers si è rifiutato di eseguire i passi di danza Valentin a pranzo si è rivolta a Javier dicendogli che sembrava un uomo sessuale. È da lì che scoppia una lite tra Valentin e Javier. Bisogna dire che i comportamenti di Valentin con questo ennesimo video non gli fanno di certo fare bella figura. Però bisogna dire che Valentin meritava una punizione all'epoca dei fatti. Quindi ora io mi chiedo perché non sono stati presi i provvedimenti in quel momento. In molti sperano che nella quarta puntata del serale di Amici si faccia un po' di chiarezza di questa situazione. Per il momento ho concluso il video, se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Joe Red. Grazie a tutti. Grazie a tutti.